Che cosa sono le vie cave? Sono passaggi profondi, tagliati nelle rocce tuface. Vengono chiamate anche vie sacre. Non sono gallerie, perché sono aperte al cielo. Ce ne sono decine attorno ai paesi della bassa Toscana come Pitigliano, Sovana e Sorano. Le vie sacre sono scavate dagli Etruschi, la cività preromana che fiorì in centro Italia attorno al 500 a.C., quando Roma era ancora un villaggio. Le vie cave non sono normali strade. Nessuno sa esattamente per quale motivo furono costruite. Non hanno un percorso diretto, ma piuttosto un andamento articolato. Le vie cave non sono normali strade. Nessuno sa esattamente per quale motivo furono costruite. sono come misteriosi meandri attraverso le profondità della superficie terrestre. Furono utilizzate per motivi cerimoniali, ritualistici o religiosi? Per processioni? Sì, perché tutto questo esforzo solo per fare una strada non rende senso. E, ovviamente, Roma hanno fatto strade, come in Orvieto, via Tamburino. È assolutamente strade. Quindi, questa è la via 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 Cava. Sembra che siano collegati con le tombe ed i cimiteri che stanno intorno. Sono senza dubbio esempi unici di vie scavate nel tufo dell'essere umano. Ma perché sono così importanti? Sì, questo è un complice meraviglioso. Sì, è stato più grande, ovviamente. Ma è grande, non? È davvero grande. È davvero grande. È davvero grande. Questo potrebbe essere, magari, una dynastica tomba o una famiglia? Sì, perché è cambiato molto, molto. Ma è un'importante tomba. Ma è un'importante tomba. Oltre abbia fresco? Oltre abbia una volta? Possibile, sì. Ma non? .. ... ... ... ... Questa è la più grande, è davvero impressionante, credo che ci devono essere circa 2.000 internazioni qui? Sì, sì. E queste tombi colombari sono ovunque in Etruria. Queste vie sacre sono sopravvissute circa 2.500 anni ed è inaccettabile che oggi, a causa dell'incuria umana, possano scomparire nell'arco di un decennio o due o poco più. Basta il tempo di una vita ora per perderli per sempre. E per pensare che è solo permesso di fallire. Guarda qui, è caldo. È chiaro. E è tutto, è fuori. Fuori per sempre. Radici di alberi stanno incontrollatamente penetrando nella morbida superficie tufacia, spaccandola irrimediabilmente. Inoltre, le infiltrazioni delle abbondanti piogge facilitano lo sgretolamento, provocando slavine che occludono i passaggi. Sì. 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 In passato gli alberi venivano tagliati, a volte sradicati perché i poderi attorno erano coltivati. questo non succede più. Sta vincendo la forza incontrollata della natura. Questo boulder ha venuto da dove Giovanni è là. Qui sono le rotte che hanno causato tutto il damello. E qui lì, questo boulder è venuto brevemente. E poi, in un modo, il boulder qui è abbastanza impressionante, perché almeno puoi vedere, questo è l'ultimo walle, la parapet walle. Ma in un paio anni, o in un paio anni, o in un paio anni, o in un paio anni, si vanno in un paio e prendere l'ultimo, e l'ultimo. E l'ultimo. Questo è proprio l'ultimo, non? E l'ultimo. E l'ultimo, questo è un po' 20 metri, non? Quindi questo è un po' molto impressionante. E molto più veloce, che ha fatto il più più misterioso. E qui, ovviamente, è tutto, non? Non è praticamente? Perché questo sarebbe stato un bend. Ah, sì. E qui, magari? È vero, sì. E l'ultimo, sì. E l'ultimo, sì. E l'ultimo, sì. È un po' un po' shame, perché ti senti a piacere. Sì, ma siamo un po' tardi ora. Oggi possiamo salvare qualcosa, ma l'ultimo è morto. Quando io ero prima qui, ci sono quasi 30 anni fa, non c'era questa roba moderna, ma... erano più lunghe, erano più lunghe. Especialmente qui. Qui, davvero, sono 20 metri alto. perché si sono ormaibili tutto. È molto più interessante da noi, Questo wide, non è? Sì, da qui. So, 2 metri. A spano. Yeah, like that. And vertical. Straight up, non curving over towards the top. Well, here's quite a disaster. Yeah, really, this is terrible. Wow, this has really fallen here. I think this must be from November 2012, because... Yeah, one year or two. Yeah, when we had the floods. Che cosa si può fare per conservare questi siti così suggestivi e unici? Controllare la crescita degli alberi è essenziale, come anche ricostruire i parapetti in modi tradizionali e non invasivi. ... This is very old. And this is how they conserve the via cava in the old days, isn't it? With bits of old brick to make everything fit right, nice and snug. And this, presumably because it allows the damp and the water to come through, it doesn't build up pressure so it doesn't burst. But, you know, couldn't we do this now? I don't know if they can do such a job without cement. But then, you see, you revive it, then it gives work to somebody, you know, you've got to have a teacher, then you have apprentices, and then, you know... It's a good occasion to restore the tradition, to restore... the ambience... And if you did that, you'd be proud of it, wouldn't you? Because that's beautiful. And it blends in... And it lasts. And it lasts, yeah. Now we're coming to my favourite place. And this is so great. Look at that. Isn't that fantastic? This is just the best. When this falls in, that'll be it. Then I'll, you know, I'll go to a better place. And this is like the prow of the Titanic, you know? Like an enormous ship. You can see, it looks like a snake, a serpent in the valley. Oh, it's beautiful. This is the most beautiful spot. Occorre un intervento tempestivo per salvare le vie cave, ma questo non può essere realizzato senza un aiuto esterno di organizzazioni come ad esempio l'UNESCO, che hanno la volontà, la visione e i mezzi per salvare questi luoghi. le vie cave sono senza dubbio patrimonio culturale dell'intera umanità. Facciamo qualcosa prima che scompaiano. che ha più di essere realizzato. I don'tsse che ha più di essere realizzato. Ero per la visione. Ero